ciao ragazzi oggi siamo con i miei amici è un capitan ciao chi si chiamava 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 non c'è nero pittorio gata il comune il suo santo io riuscola per un minuto un po' più no ma bene ma anche chiama la mia via sotto lui sempre il sole oi male oi male oi male oi male ma perchè io non lo sanno più nessuno oi male oi male oi male sto a fare il video rega sto a fare il video rega rega sto a fare il video eh si infatti io sto a fare il video per per il capitan chiappa quindi capitan chiappa saluta youtube perchè sei su youtube capitan chiappa capitan chiappa ciao a a a a a a a vabbè come possiamo dedurre le sti cose un minghiglio schiapperà a dai non stavolta tuoi tecnici ed o non si vede un valore come una birra e io vedo che batteria cazzo non sei contando questo vero 2 2 2 2 4 5 5 5 5 6 5 5 Non l'ho fatto di... Fai un'arancia! Vai! Ma da lei? Quella ho un'idea, quella ho un'idea, è grande, ma da lei. E si fa in vita! E si fa in vita! E si fa in vita! Alcuno vuole guardare il salobi Vabbè qui sono i vingimenti Vabbè ci vediamo al prossimo video Bella